Ladro maldestro, cerca di rubare l'auto di un carabiniere ma viene sorpreso proprio dal militare fuori servizio e arrestato dopo l'arrivo di una gazzella del nucleo radiomobile arrivata sul posto del tentato furto a Modugno. In via Trentino Alto Adige il militare aveva parcheggiato la sua auto dove, ha sorpreso un pregiudicato di 48 anni, intento a scardinare la serratura dello sportello dell'autoguida. Operazione interrotta dall'intervento del militare fuori servizio e dai carabinieri del nucleo radiomobile. Chiamati immediatamente dopo per intervenire in via Principe Amedeo a Bari dove era stata segnalata una violenta rissa tra extracomunitari. Due dei contendenti, un ventisettenne e un trettontenne, entrambi nigeriani, sono stati arrestati mentre sul posto i militari hanno recuperato un bastone di ferro utilizzato durante la rissa. I due medicati al pronto soccorso del policlinico sono accusati di rissa aggravata e lesioni personali. Un incensurato andriese di 28 anni infine è stato fermato dai carabinieri dopo che lo stesso in via Plinio in sella ad una bicicletta aveva invertito la marcia alla vista dei militari. Durante il controllo il giovane è stato trovato in possesso di otto dosi di cocaina nascoste negli slip. Per il ventottenne sono scattati gli arresti domiciliari.